Il motivo della presenza qui ad Architected Work ci sono tante tipologie, tante situazioni dove potersi aggiornare. Certo, io lo sai che ho l'ufficio qui vicino per cui c'è anche la logistica, mi sembra un'ottima occasione e molto più compatta di tante altre manifestazioni per cui rapidamente si riesce a vedere tanti prodotti. E si parla con le persone giuste. Senti, una domanda, visto che siamo ospiti di Corradi, sul tuo concetto di outdoor, di progetto per gli esterni, dove ovviamente entrano le tipologie dell'azienda, ma secondo me da qualche anno finalmente è anche un progetto outdoor che non è più di conseguenza, ma è forse un po' più contestuale. E certo, e sai che su questo io sono il primo sostenitore, che non c'è outdoor, non c'è indoor, è un qualcosa di tutto unito per cui con Corradi tra l'altro mi piacerebbe sviluppare un rapporto per secondo me portarli oltre al livello attuale che è un fantastico prodotto d'outdoor, ma che secondo me deve diventare qualcosa di più architettonico in modo che venga inserita nelle architetture come non un elemento a sé, ma appunto come qualcosa del progetto. E il progetto direbbe qualcuno, bellezza. Grazie. Grazie, grazie a te.